La curva pugliese della pandemia di covid continua la sua discesa. Una buona notizia che trova conferma anche nell'ultimo bollettino epidemiologico diffuso dalla regione che oggi, venerdì 5 agosto, segnala 2729 nuovi casi in calo rispetto a un giorno fa, accertati sulla base di 16.382 tamponi analizzati con un tasso di positività pari al 16,6%. E Lecce, la provincia pugliese, che conta il maggior numero di contagi giornalieri, 689, seguita da Bari con 687, e poi da Taranto con 420, Foggia 337, Brindisi 308 e infine la Bat con 184 nuovi casi, ai quali vanno aggiunti quelli di 89 residenti fuori regione e 15 di provenienza non ancora accertata. La somma dei contagi registrati in Puglia dall'inizio della pandemia tocca così quota 1.413.474. Si aggrava purtroppo il bilancio dei morti a causa del virus con altri 8 decessi nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime a 8.870. Dati in calo negli ospedali, i pazienti Covid ricoverati nelle strutture sanitarie pugliesi sono in tutto 451, di cui 433 in area non critica e 18 in terapia intensiva. Va giù anche il numero riferito alle persone attualmente positive, che scendono a quota 48.874, oltre 1.500 meno di ieri. Sale, parallelamente il totale dei negativizzati, che raggiungono la cifra di 1.355.730, con più di 4.200 guariti solo nelle ultime 24 ore.